ciao marcello un abbraccio a te un abbraccio a delio mi ripropongo per un video dopo un periodo di sosta per motivi diciamo di lavoro e volevo fare un commento su questa partita di questa sera di atalanta juve una partita sicuramente dalle due volti un primo tempo a bulico della juventus dove veramente non ha vinto un contrasto un secondo tempo dove l'armata bianconera ha veramente dato dimostrazione di essere una superpotenza soprattutto di condurre la partita a piacimento naturalmente questa sera ci sono gli episodi che coinvolgono il risultato finale gli episodi sono soprattutto relativi al rigore non dato la juventus e io vorrei solo dare una particolarità di questo rigore io ho visto che questa sera l'arbitro di porta era rizzoli che guardava benissimo e non ha spiccicato e proferito parola sull'avvenimento naturalmente non si può dar colpa al guardaline perché era molto lontano quindi non poteva vedere se il colpo di testa di nera di bonucci oppure se era la mano del difensore che di toloi se aveva preso la palla ma la cosa che mi sconvolge che se non sbaglio questo dovete dirmi lo voi correggermi voi in trasmissione che rizzoli era anche l'arbitro di porta nel gol annullato a pianic a milan juventus con quella barahonda creata da donna numma e quindi questa sera oltre a diciamo aver perso un'occasione per chiudere finalmente il campionato dico che anche ci sia stata anche questa spintarella da parte di queste di questa quaterna arbitrale o sestina arbitrale che tutto fa tranne che vedere gli episodi giusti e necessari naturalmente come fa il grandissimo massimiliano allegri che oltre a dichiarare di aver buttato via il primo tempo non si attacca all'episodio del rigore ma anzi dice che il rigore è ininfluente perché la juve non può prendere un gol all'ultimo minuto naturalmente questo non si sente in altri campi non si sente da altri allenatori da grandi strateghi di calcio dai grandi giornalaio i giornalisti che vanno girando per le varie tv onore e merito a un grandissimo allenatore onore e merito a una grandissima squadra che si ci fa arrabbiare ma che ci dà sicuramente la soddisfazione anche qualche sicurezza per mercoledì per i prossimi incontri naturalmente non abbiamo vinto nulla dobbiamo continuare a lottare soprattutto a rimanere calmi ea non farne una tragedia come vedo anche sui social di quello che è successo questa sera forza juve sempre un abbraccio a tutti alla prossima